Il medaglier azzurro si arricchisce ulteriormente, Massimo Stano conquista la medaglia d'oro nella marcia. Una gara mozzafiato per l'azzurro, capace di staccare i due giapponesi che concorrevano per l'oro con lui. L'Italia dunque può sorridere dopo il successo di Paltrinieri, che nella notte ha conquistato il bronzo e di Rizza, che nella canoa ha conquistato l'argento, Massimo Stano si mette sul gradino più alto del podio con il suo oro. Una gara perfetta per l'atleta azzurro, capace di impressionare tutti e di staccare i suoi rivali a due giri dalla fine. Se il video vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi al nostro canale per restare sempre aggiornati con nuove notizie sulle Olimpiadi di Tokyo 2020. Grazie per l'attenzione, al prossimo video!